Vigili del fuoco in azione da questa mattina in numerosi centri sanniti ed irpinia a causa dei danni provocati dal forte vento che soffia da questa notte in tutta la regione. Palitelle con medene e labbattuti e finiti sulle strade, rami spezzati, alberi sradicati e coperture di velte sia in Malle Cautina che in Malle Telesina nel Sannio. In azione i pompieri dei distaccamenti di Bonetta e Lese Terme intervenuti a Moiano, Durazzano, Erole e in altri centri e del comando provinciale a Corsi a Campolattaro e nell'Interland Beneventano per alcuni palli della Telecom spezzati e pericolosi per la circolazione, anche perché finiti sui fili elettrici dell'Enel. Stesse scene anche in Irpinia dove i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grotta Minarda sono intervenuti nelle zone di Melito, Ariano ed altri centri del Tricolle. Sempre per chiamate di emergenza per tegole volate via, coperture di velte, di case, capannoni ed altri interventi per rimediare i danni delle violente raffiche di vento. Nella giornata di ieri la protezione civile regionale aveva emanato un bollettino di allerta su tutta la Campania per l'intera giornata di oggi, 25 dicembre, a causa dei venti localmente forti che soffiono da nord con conseguente mare agitato a largo e lungo le coste esposte ai venti.